Musica Bentrovati all'edizione della notte del TG6 in apertura il terremoto di Ischia che ha riflessi anche nella nostra regione perché ci sono tanti corregionali che purtroppo la notte scorsa sono stati coinvolti nel sisma subito è partito il tam tam sui social network sul social network ha scritto anche il primo cittadino di Francavilla al mare Antonio Luciani la città adriatica è gemellata con l'isola di Ischia Luciani ha offerto il proprio aiuto e quello di Francavilla sentiamo il servizio di Paolo Renzetti Sindaco Luciani sono ore difficili ad Ischia per questo terremoto voi siete già mobilitati perché Francavilla è gemellata con l'isola di Ischia lei ha cercato tra l'altro di contattare il primo cittadino ma non ci è riuscito Sì, Francavilla ha un'unione con Ischia particolare grazie a Costanza Davalos il gruppo delle Francavillanesi capeggiate dalla dottoressa Sisto ha creato i presupposti per questo gemellaggio che un anno fa è stato formalizzato una nostra delegazione era andata a Ischia appunto per questo gemellaggio e aspettavamo a settembre una delegazione di Ischitani purtroppo c'è stato questo evento mi sono subito attivato per tentare di contattare il sindaco di Ischia non ancora ci riesco a dire la verità perché i telefoni risultano staccati ho provato a contattarlo sulla pagina di Facebook e comunque ci attiveremo sia per una raccolta fondi sia per fare quanto necessario per aiutare i nostri amici i gemellaggi non devono restare sulla carta ma proprio nei momenti di bisogno bisogna essere operativi e far sentire la propria vicinanza ai propri fratelli per ora un grande abbraccio Tra l'altro si è saputo che poi ad Ischia in queste ore ci sono anche diversi abruzzesi Sì, Ischia è una meta, la conosciamo tutti come la nostra città hanno questa caratteristica di essere raggiunte da molti turisti nel periodo estivo e quindi è naturale che ci siano molti abruzzesi speriamo che insomma siano limitati al minimo i danni alle persone per quanto riguarda le cose si ricostruiscono ci saranno gli interventi sicuramente pronti del nostro Stato Continuiamo con la cronaca di 3 morti e 5 feriti Il bilancio di un incidente che si è verificato sull'autostrada A14 in direzione Ancona nel territorio di Città Sant'Angelo sul posto hanno operato per ore gli agenti della Polizia Autostradale del COA di Pescara Nord coordinati dall'ispettore capo Sabatino Pulcini i sanitari del 118 di Pescara di Montesilvano e di Chieti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia L'autostrada è stata chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord per permettere l'arrivo dei soccorritori e la pulizia della carreggiata le vittime sono Raffaella Cotechini di Porto Sant'Elpidio 35 anni, annunziata a Caforni, 59 anni, di Valle Castellana e Concetta, Irmici, 75 anni, di San Severo le tre donne viaggiavano su tre diverse auto all'ospedale clinicizzato di Chieti sono ricoverate in gravi condizioni altre due persone, tre i feriti invece ricoverati all'ospedale di Pescara e continuiamo con la cronaca un trentenne di nazionalità romena ma residente in Abruzzo è stato ferito in modo grave in un incidente agricolo avvenuto questa mattina a Giuliano Teatino sulle colline di Chieti per causa ancora di incertamento in corso di accertamento l'agricoltore secondo una prima ricostruzione si sarebbe ribaltato con il suo trattore finendo sotto il mezzo dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118 l'OMO è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Chieti dove i sanitari dovranno intervenire per la semi-amputazione dell'arto inferiore invece adesso parliamo di sisma e ricostruzione ieri si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro con gli esponenti delle regioni colpite dai sismi del centro Italia per fare il punto sulla ricostruzione nel dopo terremoto ascoltiamo il servizio di Noemi Fratelli dopo quasi un anno dagli eventi sismici avvenuti nell'estate 2016 che hanno inginocchiato economicamente e moralmente le regioni del centro Italia ieri a Palazzo Chigi si è tenuto il vertice per fare il punto sulla risposta dello Stato sono coinvolti 140 comuni di Umbria, Marchio, Abruzzo e Lazio che attendono la ricostruzione il premier Gentiloni si è detto comunque soddisfatto degli strumenti e delle risorse estanziate per fronteggiare l'emergenza il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso sulla stessa linea d'onda del governo ha rimarcato come rispetto a terremoto del 2009 la macchina del soccorso sia stata rapidissima a differenza del passato, continua D'Alfonso tutta l'impalcatura normativa e amministrativa non è stata il frutto di una battaglia tra territorio e Stato centrale ma è stata scritta a quattro mani con l'amministrazione centrale il governatore ha poi spiegato che i comuni abruzzesi colpiti dal sisma dell'agosto 2016 sono stati 23 per un totale di 103.000 abitanti coinvolti attualmente le persone assistite sono 5.300 di cui 1.400 negli alberghi al sisma si sono aggiunte anche le frane sismo indotte a Campi e Civitella del Tronto con intere frazioni distrutte per le quali, assicura il governatore si stanno adottando soluzioni ad hoc si è voluto così rispondere alle polemiche delle ultime ore sui ritardi della costruzione dei moduli abitativi provvisori che hanno visto in prima linea il sindaco di Amatrice Sergio Pirrozzi che ha apertamente contestato l'operato della struttura commissariale guidata da Vasquerrani il commissario è pronto a lasciare l'incarico il prossimo 9 settembre ma chiede ai cittadini di non abbandonare la speranza certo che la ricostruzione ci sarà Continuiamo sempre a parlare in qualche modo di sisma e di ricostruzione andiamo però nello specifico delle versante scuole a Teramo, questione ancora aperta ormai a pochi giorni dalla riapertura dell'anno scolastico il sindaco del capoluogo Maurizio Brucchi questa mattina ha confermato che presto arriveranno i MUSP e che per la fine delle verifiche sugli edifici più a rischio ci vorrà ancora una settimana ascoltiamolo il sindaco di Teramo abbiamo avuto conferma ieri sera da Errani prima e dal presidente D'Alfonso dopo che arrivano i MUSP la richiesta è per 889 posti è chiaro che cercheremo di abbattere i tempi perché prima arrivano e prima possiamo iniziare questa attività di miglioramento e adeguamento del nostro patrimonio scolastico esistente tengo a precisare che io oggi non ho deciso di chiudere nessuna scuola quindi perché? Perché abbiamo chiesto ai tecnici nelle scuole con indici più bassi di fare ulteriori verifiche ed approfondimenti ci vorrà ancora una settimanella ma diciamo che per il fine settimana inizio alla prossima avremo questi dati a quel punto prenderemo le decisioni che dobbiamo prendere nell'obiettivo che per noi è prioritario la sicurezza dei nostri figli quindi è chiaro che vedremo nelle prossime ore quelli che saranno i risultati e poi prenderemo le decisioni è importante avere un plafon così di aule e ho chiesto anche alla provincia di darmi la disponibilità di eventuali spazi che non dovesse occupare io so che per esempio al Pascal alcuni spazi ci sono perché nel caso in cui non avesse aver bisogno utilizzerò questi spazi diciamo che un po' come la scuola Giolli che avremo fra qualche mese con i MUSP lo faremo adesso con queste aule è chiaro che non è detto che queste aule ci servano però è chiaro che ci portiamo avanti con il lavoro in modo da essere pronti per l'11 settembre intanto abbiamo un polo scolastico finanziato finanziato con i soldi della ricostruzione dell'ingegner d'Alberto dell'USR per quanto riguarda l'adeguamento della San Giuseppe e con i fondi del bando delle periferie a cui bisognerà aggiungere qualcosina ma lo vedremo per quanto riguarda invece una stecca da fare in prossimità dello stadio nel posto dove c'era la vecchia tribuna per intenderci non faremo più il bike hotel ma faremo una scuola questo ci permetterà intanto di avere già due interventi importanti uno nella zona d'Alessandro e MUSP e devo dire che sono soddisfatto di questa attività è stato un agosto difficile e adesso torniamo ad occuparci dell'incendio del Morrone la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sul rogo e nella tarda mattinata il procuratore capo Giuseppe Bellelli ha compiuto un sopralluogo stiamo cercando le tracce e gli elementi utili a ricostruire le cause di questo incendio ha dichiarato il magistrato si tratta di reati gravi come incendio boschivo doloso e forse anche disastro ambientale questo lo valuteremo di certo faremo di tutto ha detto il procuratore per assicurare alla giustizia i responsabili intanto sono riprese da questa mattina le operazioni di spegnimento dell'incendio sulle Morrone con l'impiego di due canadere sostituiti intorno a mezzogiorno da due elicotteri dell'esercito e dei carabinieri forestali sempre questa mattina i carabinieri forestali hanno recuperato due fuoristrada che domenica scorsa erano rimasti bloccati dieci persone erano salite fino alla chiesetta di San Pietro per ricordare un loro amicchio escursionista scomparso nei mesi scorsi e pregare vicino alla stele che lo ricorda e sono riusciti a mettersi in salvo attraverso la valle percorrendo il bosco dal versante opposto e raggiungendo colle delle vacche dove erano attesi da squadre di soccorso attorno alle 22 tra queste persone anche l'ex vice sindaco di Pratola Costantino Cianfaglione e l'imprenditore Pier Giorgio Schiavo Adesso passiamo alla politica pescarese sembra essersi concluso il rimpasto di giunta al comune manca ancora l'ufficialità ma l'assessore al bilancio e allo sport Giuliano Diodati dovrebbe restare all'interno della squadra di governo della città lasciare spazio a Gianni Teodoro invece sarà Stefano Civitarese Matteucci delegato all'urbanistica avvicendamento anche tra Laura Di Pietro e Simona Di Carlo vediamo insieme il servizio Rien va plus le jesonfée questo dice il croupier del casino una volta fatta partire la roulette e al comune di Pescara per settimane è sembrato di vivere proprio all'interno di un casino con la pallina bianca che alla fine si è fermata sul nome di Stefano Civitarese Matteucci dopo aver rimbalzato su altri nomi e colori e vacillato fino all'ultimo sulla casella di Giuliano Diodati dunque ha prevalso la ragion di Stato perché l'eventuale defenestramento dell'assessore al bilancio e allo sport avrebbe generato un effetto a catena con ripercussioni imprevedibili anche in regione Abruzzo Diodati appartenente alla corrente del Partito Democratico capeggiata dall'assessore regionale Donato Di Matteo dunque resta al suo posto dopo giorni vissuti sulla graticola ma la scelta di far fuori Civitarese assessore esterno da meno di un anno è una scelta pesante a cui il sindaco di Pescara si è dovuto piegare proprio per evitare conseguenze e guai peggiori preso tra due fuochi le pressioni interne al PD e la questione Lista Teodoro Alessandrini ha deciso di sacrificare l'uomo che aveva chiamato per risollevare le sorti dell'urbanistica in città Civitarese che ha preso la notizia nella serata di ieri si è detto sorpreso del dietro front del sindaco che dopo la riunione di sabato scorso con D'Alfonso sembrava intenzionato a chiudere la partita con i dimatteiani evidentemente la minaccia di uscire da regione provincia di Pescara e comune lanciata nemmeno troppo velatamente da Di Matteo non era una semplice butade ma una eventualità più che concreta così a far posto a Gianni Teodoro placando il Vietnam in consiglio comunale sarà uno tra gli ultimi arrivati così come Laura Di Pietro destinata a lasciare l'incarico ai parchi per far posto alla consigliera Simona Di Carlo ma le grane del sindaco di Pescara non sono finite qui perché dopo il Totonomi è già scattato il Totodeleghe sicuramente Gianni Teodoro non si accontenterà di deleghe di facciata ma vorrà incidere pesantemente sulle decisioni che riguardano la città la roulette quindi è destinata a tornare a girare di nuovo in attesa dell'ufficializzazione del completamento del rimpasto e proprio sul rimpasto di giunta questa mattina c'è stata una conferenza stampa da parte della opposizione di Forza Italia vediamo il rimpasto della giunta Alessandrini a Pescara con l'uscita di scena probabile dopo 11 mesi dell'assessore Stefano Matteucci Civitarese al posto di Gianni Teodoro oltre all'avvicendamento fra Laura Di Pietro e la consigliera Simona Di Carlo agita la maggioranza e vede le critiche feroci del centrodestra che questa mattina per bocca del capogruppo Marcello Antonelli è arrivato a chiedere le dimissioni del primo cittadino e l'arrivo del commissario prima delle elezioni critici sicuramente ma soprattutto preoccupati preoccupati per la città perché questa è una città completamente paralizzata senza governo con un sindaco inesistente che ha passato l'estate a gingillarsi attorno a questo rimpasto ormai che assume i contorni del ridicolo con le decisioni ultime che sembrerebbero vedere fuori l'assessore Civitarese che era quello che avrebbe dovuto rilanciare la fase 2 dell'amministrazione comunale a guida Alessandrini dopo 11 mesi gli viene dato il ben servito non si capisce francamente per quale ragioni io immagino che sia la vendetta di D'Alfonso e di qualche dirigente del comune che continua a partecipare ai tavoli politici non si capisce bene a quale titolo per i no detti a Pescara Porto per esempio da parte dell'assessore Civitarese a cui riconosciamo grande onestà intellettuale e anche un lavoro che aveva sviluppato e che a settembre avrebbe dovuto aprire un confronto serio sui temi strategici in consiglio comunale tutto questo non avverrà non avverrà e nel deserto che ormai caratterizza l'amministrazione di Alessandrini noi riteniamo che sia veramente giunto il momento per Alessandrini lui di andare a casa non di mandare a casa qualche assessore per farne entrare qualcun altro ma di andare a casa perché ha bloccato la città l'ha letteralmente distrutta questa è una città sporca insicura senza governo si ridesse la parola ai cittadini ci pare l'unica scelta dignitosa che Alessandrini possa davvero compiere in questi giorni questo punto invece secondo voi cosa accadrà? accadrà che secondo il vecchio teatrino della politica Civitarese che non aveva difensori in consiglio comunale andrà a casa entrerà un nuovo assessore di rappresentanza della lista Teodoro aumentando peraltro la conflittualità io penso che ci sarà un anno e mezzo in cui dentro la maggioranza continueranno a litigare perché non sono d'accordo su nulla e quindi ci sarà un disastro per Pescara un anno e mezzo perso quando invece si potrebbe tranquillamente recuperare terreno ripeto ridando la parola agli elettori qualche mese di commissariamento e poi parola ai pescaresi perché scelgono una nuova amministrazione in Abruzzo non c'è alcuna emergenza legata alle uova contaminate dal Fipronil i controlli eseguiti dalle ASL su 11 operatori del settore hanno portato alla scoperta di un unico episodio di positività riscontrato in uno stabilimento di imballaggio del Terramano che stava lavorando una partita di 25.920 uova provenienti dalle Marche da un'azienda agricola della provincia di Ancona sono state sequestrate 25.840 uova che verranno avviate alla distruzione contestualmente sono state attivate le procedure per l'informazione al Ministero della Salute alla Regione Marche e a tutta la rete dei controlli sulla sicurezza alimentare compreso il NAS dei Carabinieri il piano di monitoraggio in Abruzzo ha preso il via il 10 agosto scorso con una nota del Dipartimento Salute con cui si chiedeva di attivare verifiche su partite di uova e ovoprodotti provenienti da stabilimenti di alcuni paesi europei tra l'11 e il 18 agosto sono stati eseguiti campionamenti per la ricerca del Fipronil nelle matrici indicate dal Ministero il 20 di agosto l'Istituto Zoprofilattico di Teramo ha comunicato la positività che sulla base della documentazione disponibile è stata ricondotta appunto all'azienda marchigiana ed ora siamo alla cultura tutta la storia del Novecento nella mostra Iconic a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi in mostra ci sono dei manifesti che hanno cambiato il modo di fare arte del ventesimo secolo in servizio Pittura, scultura, design e architettura nella mostra iconica lessita nelle sale di Villa Paris di Roseto visitabile fino al 31 ottobre l'iniziativa fornisce l'occasione per immergersi nelle opere d'arte che con il manifesto e la pubblicità hanno segnato la produzione artistica del Novecento trasmettendo sull'immagine la traccia e la sintesi del ventesimo secolo Si tratta di una selezione di 70 manifesti su 456 di proprietà del Comune di Roseto parte di una preziosa collezione che ha contribuito a creare un patrimonio storico, culturale e didattico per ricomporre le principali tappe dell'arte moderna Si può dire che si realizza un sogno covato nascostamente per almeno 25 anni da quando questi manifesti così come sono adesso arrivarono alla Villa Comunale di Roseto 456 manifesti non potranno mai essere esposti tutti insieme occorrerebbero spazi misurati e poi tutto sommato non avrebbe senso perché questi manifesti esposti in piccole parti come si sta facendo rotevolmente a Villa Paris danno la possibilità di leggere i momenti storici i momenti artistici di cogliere quelle che sono anche le iniziative prese dai singoli musei per quanto riguarda l'arte del Novecento l'arte contemporanea la mostra in due mesi vuole essere un'occasione imperdibile per insegnare il valore artistico storico e culturale di un'Europa che ha segnato con l'arte del segno del colore dell'immagine la produzione artistica del Novecento e adesso andiamo a Canosa Sannita in provincia di Chieti dove ieri sera c'è stato il concerto di chiusura delle feste padronali con la musica dei camaleonti che hanno così deciso di festeggiare il loro 53esimo anno di attività nel centro della provincia teatina il gruppo ha presentato anche l'uscita del nuovo CD 50 anni di applausi contenente 5 grandi successi e 5 inediti per far rivivere la magia della musica italiana degli anni 60 e 70 per molti spettatori ovviamente è stato un ritorno al passato hanno potuto così riascoltare e riassaporare una musica destinata non tramontare mai e noi possiamo ascoltare proprio una parte del concerto è lei che non c'è più l'orologio della piazza ha battuto la sua ora è tempo di aspettarti è tempo che ritorni non sento sei vicino è l'ora dell'amore ed ora siamo alla pagina dello sport il Pescara ha ripreso ieri gli allenamenti nella settimana che porta la prima di campionato contro il Foggia il mercato però continua a tenere banco e sempre ieri il Delfino ha perfezionato l'acquisto a titolo temporaneo dell'attaccante Baez della Fiorentina non si sbloccano intanto le operazioni in uscita cioè quelle di Zampano Memushai e Benali il servizio di Andrea Costantini il Pescara ha acquistato in prestito dalla Fiorentina l'attaccante uruguaiano Jaime Baez esterno centravanti il giocatore cerca ancora l'anno dell'esplosione definitiva e finora ha indossato in cadetteria le maglie di Livorno e Spezia ma il mercato continua ad essere ricco di incognite per il Pescara quando manca poco più di una settimana alla chiusura della sessione estiva è il caso di Petar Golubovic l'ex difensore del Pisa di proprietà della Roma il cui acquisto non è stato ancora ufficializzato c'è ancora qualcosa da limare nell'accordo con il calciatore mentre è già tutto fatto tra Pescara e Roma nonostante la frenata la trattativa dovrebbe andare in porto nelle prossime ore sempre sulle fronte entrate il Delfino resta vigile su Carlos Embalo nell'intervista odierna al messaggero il DS Rosanero Fabio Lupo ha spiegato che lo staff tecnico vuole ancora valutare per altri giorni l'esterno guineano verificando anche gli sviluppi di mercato del Palermo e comunque un suo arrivo passerebbe per la cessione sulle cui tracce ci sono sempre Avellino e Salernitana ma il fronte più spinoso resta quello delle uscite sembrava in discesa la strada che portava Francesco Zampano a Chievo ma il club di Campedelli ha frenato anche per la richiesta del Pescara che chiede oltre 2 milioni di euro con il laterale Sebastiani vuole monetizzare se non ce la farà poco male visto che Zevan gradisce tanto il terzino genovese e lo considera un punto di forza della squadra gli altri uomini in mercato sono Memushai e Ben Ali per il centrocampista albanese è sempre viva la pista Benevento anche se l'affondo decisivo non arriva per via di alcuni contrasti tra il presidente Vigorito e il DS di Somma sembra essersi sopito l'interesse della Sampdoria per Ben Ali anche se il discorso potrebbe riaprirsi in caso di cessione di Schick nei prossimi giorni non escluso che entrambi restino andando a ingolfare il reparto di centrocampo anche se Ben Ali è stato sempre impiegato da Zevan nel tridente d'attacco del quale farà parte salvo sorprese Leonardo Mancuso per il quale sono state subito smorzate le voci che lo volevano tornare in prestito alla San Benedettese l'attaccante milanese resta a Pescara e proprio ieri è tornato a lavorare in gruppo assieme a Bovo ma sarà al massimo candidabile per un posto in panchina in occasione della gara di debutto di domenica col Foggia novità novità nell'ultima settimana potrebbero riguardare Bovo e Fornasier che hanno la valigia pronta Van Oysden dell'Inter e Bastoni dell'Atalanta potenziali sostituti e proprio per quanto riguarda la partita di domenica all'Adriatico Cornacchia con il Foggia ci sono delle novità per quanto riguarda la tifoseria ospite nella riunione tenutasi questa mattina in questura a Pescara insieme con l'osservatorio sulle manifestazioni sportive è stata decisa l'assegnazione dell'intera curva sud esclusivamente ai sostenitori pugliesi contestualmente è stata così ufficialmente aperta la vendita dei taglianti ai supporters Foggiani il costo del biglietto del settore ospiti è fissato a 15 euro tariffa unica per un totale di 1.400 posti in conseguenza della decisione presa dagli organi di pubblica sicurezza il Pescara comunica che tutti gli abbonati del settore di curva sud e coloro che avevano già acquistato il biglietto per il medesimo settore saranno trasferiti senza nessun costo aggiuntivo presso la tribuna adriatica il costo del tagliando del settore ospiti come detto è di 15 euro i posti a disposizione sono 1.400 adesso scendiamo in serie C sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna a dirigere la gara di domenica prossima tra Mestre e Teramo assistenti Biasini e Bianchini entrambi di Cesena la partita valida per la prima di campionato è a rischio come tutte le altre gare della Lega Pro per via dello sciopero minacciato dall'asso calciatori oggi intanto con apposito comunicato è stato ufficializzato che in via sperimentale nel corso del campionato di serie C sarà possibile effettuare fino a 5 sostituzioni utilizzando a tal fine tre interruzioni della gara oltre a quella dell'intervallo tra i due tempi i 5 cambi sono possibili anche nei playoff nei playout e nella supercoppa di serie C ed ora facciamo il punto sulla coppa di serie D quattro le squadre abruzzesi impegnate nell'ultimo weekend per il turno preliminare bene l'Aquila e Francavilla mentre Pineto e Pratola dovranno continuare a lavorare in previsione dell'avvio del campionato sentiamo il servizio di Jacopo Forcella il primo impegno ufficiale per le squadre di serie D riconsegna almeno quattro formazioni in attesa delle altre ancora alle prese con le difficoltà normali dell'avvio dopo la pausa estiva la formazione che all'annetto delle diatribe societarie finalmente risolte ha stupito probabilmente di più è l'Aquila capace seppur dal dischetto di passare il turno a scapito del Pineto che invece sembra una vera e propria corazzata in attesa di ulteriori innesti in Casa Rosso Blu invece si attende ancora che Valente De Julis assenti domenica inizino ad entrare nei meccanismi di Battistini già magari a partire da domenica in un altro derby tutto abruzzese di Coppa al Gran Sasso Italo Acconcia contro il San Nicolò di Campanile credo che numericamente questa squadra possa esserci poi dobbiamo allutare ovviamente in relazione agli obiettivi cosa fare in futuro però credo che lo possiamo fare con tranquillità quest'anno perché la società ha detto in partenza che questo deve essere un anno di transizione e questo vuol dire che cercheremo di tirare fuori qualcosa il meglio possibile dalla cosa che ci verrà messa a disposizione quello di Coppa invece è stato un pineto sperimentale con il nuovo modulo 4 e 3 che a Mauro avrà poco tempo per far assimilare ai suoi ma che comunque era e resta una variabile da utilizzare in corso d'opera se consideriamo che era il terzo giorno che lavoreremo su questo modulo la squadra può sicuramente far meglio è chiaro in un modulo nuovo e contro una partita importante una squadra organizzata come l'Aquila si può mettere anche in preventivo di andare in difficoltà interessa con la preparazione all'inizio del campionato continueremo a fare e lavorare per presentarci in condizione migliore per il 3 settembre sul fronte mercato invece per il direttore generale Gianmarino la squadra è al completo con l'arrivo in difesa di Alfonso Pepe anche se non si esclude un regalo last minute del presidente Brocco noi dobbiamo fare un campionato buono un campionato importante i giocatori sono importanti il gruppo è solido non credo che ci saranno ancora movimenti di mercato oltre Pepe penso che ci fermiamo qua poi se arriverà qualcosa quello sarà solo il presidente che potrà decidere se fare un regalo o meno a questo organico che è già importante nell'altra gara le due matricole del campionato interregionale avranno obiettivi diversi con ogni probabilità in casa Francavilla gli ex Lanciano Fofana e da menta sono ormai una realtà Pierluigi Iervese dovrà miscelare bene gli ingredienti considerando che la prima uscita ha dato risposte positive davanti un po' meno dietro quella col nero stellati è stata anche una prova generale del turno successivo contro l'Avezzano che sarà un ulteriore test probante per i giallorossi ho la fortuna di avere una società importante un presidente che conosce il calcio sa come gestire la situazione in questo momento io alleno un gruppo meraviglioso un gruppo di ragazzi che mi stanno dando la loro disponibilità sono veramente contento se poi dovesse venire qualcun altro che serve per migliore la squadra ben venga altrimenti vado avanti volentieri con questo gruppo perché è un gruppo veramente ottimo infine il nero stellati Bratola che dovrà invece superare lo scotto della prima volta in D la gestione del vantaggio al Valle Anzucca non è stata impeccabile ma il primo impatto per Di Marzio e la sua banda è stato comunque positivo per una formazione che avrà come unico obiettivo quello della salvezza abbiamo preso Di Rosa che era l'ultimo tassello che cercava ma adesso cercherò di lavorare con questi ragazzi la squadra secondo me è una buona squadra una squadra un mix di giovani e esperienza che dovrà sicuramente migliorarsi nella costruzione del gioco anche in alcune fasi in alcune fasi di sviluppo però ho visto già cose confortanti e quindi questo mi fa ben sperare ed è tutto anche per l'edizione della notte del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 vi auguro la buonanotte per la rassegna